Tutto è cominciato quando ho conosciuto una donna sul treno. Io sono Elise. Io sono Frank. Hai un nome orribile. È l'unico che ho, purtroppo. Possiamo trovartene un altro? Ok. Ho la strana sensazione che quei due laggiù ci stiamo guardando. Hai la sensazione giusta? Credi? No. Frank! Vieni con me! Elise Ward è suo marito. Sei vorace. Vuoi dire procace? Giusto. Avanti, prendetelo. Pronto? Mi aiuti? Ci sono due uomini che cercano di sfondare la porta. Che tipo di problema ha con la porta, signore? No, no, no. Due uomini armati vogliono entrare. Devo andare! Perché tutti vogliono uccidermi? Alexander Pierce ha rubato un sacco di soldi a un gangster. L'hanno scambiata per lui. Quell'uomo è un criminale ricercato in 14 paesi. Siamo andati troppo oltre. E riparte di un piano. Ecco perché quella donna lo ha scelto. Per distrarci. Mi dispiace di averti coinvolto. E tu perché sei coinvolta? Sai che sarà con lei. Elise! Vuole denunciare un omicidio. Tentato omicidio. Non è così grave. No, se si parte dall'omicidio. Ma se si parte dal servizio in camera è grave come? Non sono affatto pentito di averti baciata. No,? Nicolò sì perché? Non è quella successa.